ola 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 va? non va? streaming ricoste uscita video bassa adesso ora va ola vittorin ola fanta ciao sve ciao loked ciao a tutti ola 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 io non tengo che sia la prova audio chiaro loked abbiamo tutti la switch allora prova audio perfetto ci facciamo una partitella dai adesso partiamo e ci facciamo una partitella com'è bella la partitella fanta acquiso l'account vali validi ah è vero è vero è vero è vero loked perdona svevi ancora non ce l'ha come quando inizia sta live non ci vedi? ola club che tale stas ola chicos 40 account sarebbe un furto io voglio solo io voglio solo io voglio solo account veri che tale stai chico? non ti ho sì questo mi fa piacere fanta le cose oneste sì condividere il video già mi piace di più rispetto a 40 account falsi loked guarda che qui siamo di tutto il mondo non c'è uno spagnolo solo adesso ti aggiungo è un secondo che inizia la partita come hai visto forse non hai visto ma parliamo 5 lingue ragion per cui troverai spagnoli tedeschi inglesi sudamericani italiani quindi ci sarà un pochettino di casino in questa questa è solo per per player estremi e adesso mi sono girato sta sigaretta fumare fa male fumare uccide ricordatelo sempre aggiungiamo loked fanta fanta te lo vai a prendere quando quando gioca con noi adesso vieni a giocare con me e dopo ti pigli il codice di vabbè io non l'ho mai detto sveli che voglio continuare a vivere ma ho mai sentito dire iniziare una live dicendo che bella è la mia vita sono soddisfatto ah si si bravissimo bravissimo fanta se usi discord aggiungi il nostro codice discord così almeno giochiamo cioè lì ci sono tutte le novità quando facciamo le cose il discord è la nostra base attualmente abbiamo 100 persone sul server quasi tutte attive fai di 100 persone minimo 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 60 attive le abbiamo io domani ho un compito in classe no doc non morire farò tutto il possibile ragazzi per rimanere ancora un paio d'anni in vita tranquilli quando sarà il mio momento lo saprete perché non ci saranno più live vostra e Caleb mira lo voglio essere l'uego dammi il tempo di essere sto live dammi il tempo di creare l'account discord c'è l'account di 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 ci siamo se ora come ora necessita di una base di apoyo tio dale il mio e io te copiere tutti i messaggi che voi ricevendo non ti preoccupi prima partita ragazzi sempre una merda sono sempre buffo la prima partita ragazzi oh la puttana di romazza quando inizia lo lo chiede siamo già in live non lo vedi il video ti conviene fare aggiorno allora se non hai il video perché siamo già in live da minimo 5 minuti perfetto riavvia il video o passa youtube game perché youtube game gira un pochettino un pochettino meglio no io la vedo bene io mi vedo sono così bello che mia madre dovrebbe essere fiero di me forza forza bam da due minuti quindi la partita non si è vista fortunatamente non si è vista sta partita di merda che ho fatto any hello zap how are you solo un secondo guarda oggi non ho messo il lag oggi voglio che tutti i miei subs mi splattano come poco zap oggi siamo ok grazie jazz ora è a lavoro quindi viene in casa in casa in max 2 ore nothing all good thank you if you want to come and play with us no problem cocco cocco ti saluta fanta no la scorreggia ciao 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 bravo bravo il pappagallo ti ha detto ciao 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 no il mio pappagallo parla non fa croc che cazzo è la rana venga ah la rana fa crack a parte quello però aiuto no me lo creo lo che guarda che ti ripeto se usi discord viene lì perché lì troverai quando non sai con chi giocare o cosa troverai italiani spagnoli di tutto il mondo please please hello to everyone hola chico hola a todos benvenuti estamos aqui hoy per hacer una una live de fruta madre due mi ammazzeranno ovvio sveli ho tolto tutto perché di nuovo è successo merda l'ho lasciato solo Caleb momentaneamente credo che non c'è neanche più Bon chi è un Caleb lo sta preguntando a me Kaylee hola Kaylee a Kaylee I'll leave me deep without you comunque sveli I have two perfect gear which is nice vieni 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 Locked vieni Locked hola Kaylee adios Kaylee Kelly è venuto justo justo per decir adios già lo sappiamo com'è con la noce vendrà Kaylee ho terminato la pintura tranquilla tranquilla Kaylee lo sai lo sai che tu vita è molto intensa e vieni sacchi sacchina sacchi sacchina i miei occhi vedono il vero hai ricevuto una richiesta hai ricevuto una richiesta sacchina 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 sei meglio della varichina ciao it's up welcome welcome si fanta sono una merda entra cosa fai entra siamo già dentro noi ciao sveli punto it ciao sveli punto com this message was for my new friend I hope you subscribe to my channel because we use code 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 so vieni bello blonde lion subscribe subscribe to the channel too please and and the pulcino piano and the pulcino pio wow Gio attenzione T-Bon si è iscritto al nostro canale un saluto a T-Bon wow wow che immagine profilo ha messo T-Bon ragazzi chicos non avete idea di che immagine guapa che tiene T-Bon nel perfil si Victorino oggi mi encuentro bene grazie a ieri e il giorno passato a ieri ha sido fatal per me in serio ti dico wow hai vomitato l'alma il corazon il cerebro e comunque amore mi è matta bam bam comunque svegli T-Bon e Mako T-Bon ieri non l'ho visto Mako era in una clan war di un torneo ragione per cui non era presente ma so che sta bene le cose procedono molto bene e lo so lo che guarda qua ti devi abituare perché si passa dal linguaggio all'altro secondo delle domande che fanno ragione per cui se ti piace il canale partenopeo classico sei nel posto sbagliato qui ci si adatta gli spagnoli ascoltano l'italiano tedesco inglese e tutti ascoltano tutto quindi è un po' così è un po' che tu c'è i nomi partecipanti allora io volevo dire semplicemente che ieri il ligo di clan è arrivato in finale di una clan war molto 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 pesante la finale si deve ancora svolgere i ragazzi sono stati molto forti nell'equipo c'era denise kaleb mako e michel settimo gabriel settimo perdonate e niente vi dico che è stato molto 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 intenso come come chiaro 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 nintendo madness hello my friend how are you chico perché lo sapete lo sapete ayer ieri 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 hanno jugato una clan war molto molto importante e sono in finale e credo 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 che ancora si deve fare la finale e e niente abbiamo che essere molto soddisfatti dei hermani che hanno jugato con il nome degli igodi in questi giorni hanno sido Caleb Marco Gabriel VII e Denis la nostra nuova 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 igodi quindi ragazzi ieri 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 non non immaginare come sono felici di questo perché tener persone che juega e vanno a ganare e non non se conoscen perché non non se conoscen bene a jugar sono tutti nuovi sì Fanta guarda le clan war si fanno in privata momentaneamente assegno solamente una squadra per ogni clan war per evitare di creare confusioni anche gli organizzatori stessi perché se no andiamo lì con 15 squadre e niente di che importante poi alla fine sono i tornei che ci saranno più avanti questa questa è la realtà passa youtube game si blocca molto molto meno si blocca tutti la live ragazzi e non solo voi tranquilli ma scusa ma perché devi andare a giocare con Fanta non puoi entrare nella partita che stiamo facendo questa è la domanda che poi Fanta sta giocando qua no questo 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 desde youtube canale sempre diretto youtube canale come molto più che youtube normal claro bravo bravissimo bravissimo victorin guarda Fanta victorin ti dice lo stesso è Locked ci riprovo a dirtelo forse non mi senti Fanta sta già giocando mi pare con me perché non entri tu nella partita no Fanta non sta giocando con me perfetto vittor ah eccolo qua devi entrare tu nelle partite Locked se no un secondo chicos un secondo guys i'm not reading the chat so i cannot contest you chicos non me puedo contestar un secondo mi mi pregunta è Kaleb donde sta mi starà jugando in alguna in algún live stream con sus amico a e mad oggi non è un giorno di video sembra come solo un amico youtuber si, si, stas studiando stas studiando il che tu? già sappiamo che tu stai giocando con la con persone estranea oh, Caleb mi discarica fortnite fortnite, come si chiama ole ole è mad, è mad come in the life of this night you can find for sure more igody Fanta non credo che sia non credo che sia ancora pronto per una reaction è giovane ancora il ragazzo è giovane di canale dobbiamo ancora sperimentarci bu 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 ostra, ostra, ostra bam oh Victorin che hazi tío eh Caleb vuoi sapere la mia opinione sobre questo gioco è un gioco di mierda mierda gioco gioco a questo gioco è come non lo so per facertelo entender bene cagare nel plato della paella entiende gioco a questo gioco è questo come se tu madre ti faci la paella e tu le cagare nel plato uguali persone come tu credo che non lo vanno a gioco non si ti pagano questo è come lo penso io eh io mismo oh yeah chicos ma oi che me passa al che passa lo streaming oi perché me ha sesto va mal va va muy mal fatal eh tío non lo so se cae la conexione 3x2 bu E qui non va? Angela? Angela? Hola Angela Hola Angela che tal? No, 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 no la 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 cale ben nabbo la 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 cale ben mago sono due nabbi la 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 a ver non so che salutiamo angela mangia l'avevo avevo solo un partito nel partito ora tiri di 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 tiri oh cristo non inizierà mai la live cosa vuol dire zio fanta fanculizzati ti sta troppo bene sono felice felice solo se splattano fanta felice solo se splattano fanta ah la 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 ho le Ostra Invochiamo Angela, 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 Angela Hola Jorge Bien, bien, bien Venito, venito, venito Bien, bien, bien Venito, venito Jorge Subscribe to my channel Caleb, subscribe Te speriamo, Jorge, tranquillo A chi resta un po' reso Finchè la fanta va, lasciala andare Finchè la fanta va Nemo? Chiappa il pesce, Nemo? Nemo, a chi resta un po' pesce Lo sei, lo sei, Jorge Sto di broma, Jorge Madre mia Che ti passa? Eccolo, eccolo un altro Marvi, benvenuto Bienvenido, benvenuto, chicos Aquí transmite Rete 22 Angel, gracias por tu suscripción Grazie, 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 grazie Tres veces grazie A ver, a ver Rasputin Es como un raspberry Con Putin El raspberry De Putin Se llama Rasputin Finchè la fanta va Lasciala Hace privato Angel, mira Tu eres nuevo Y te explicaré Solo un segundito Cómo nosotros Trabajamos Entre comillas Mira, haremos Hacemos siempre Un par de partidos En pública Así vamos reuniendo Personas Y empezamos con el privato Después de un rato Cuando llegamos A ocho personas Disponible Empezamos en privato Grande Si, si, si Te estoy explicando Así Va Entendendonos Un poquito Porque Nosotros aquí Somos más o menos Un clan Que Más que un canal YouTube Entonces te digo Empezamos jugando así Ahora tenemos Toda la room Liena casi Oh, no me lo creo Odio Este equipamento Porque No tiene nada De especial Es un equipamento Proeba L'olio Más si Entonces mi tinta Finisce Termina muy muy Bu Vaffanculo Vidi Vaffanculo Compro una vocale La O Di Orca Ma Uomo Orco Victor Cállate Qué Hace No Ángel Mi mujer Ne habla Más Tranquilo Se te Conectará Por la noche Verás Ella Que habla Entran Hasta Lo chino No Lo chino Es Tierra De Saki No es De mi mujer Olé Olé Habla con mi perro No Grande Angela I love you Otra pregunta Hablas por Discord Mira El Discord Normalmente Lo usamos Como base De los igodi Entonces Hablamos Un poquito Todos Pero No lo usamos Por lo directo Porque Hay personas Que hacen tonterías Y nosotros No queremos Comprometer Lo que es Nuestra imagen Entonces Hablamos Entranos Ma no En directo Aún no Ahora chicos Vamos atrás Si Ragazzi Andiamo 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 Indietro Per favore Guys Come back Please Zap Go back We create Another room Bueno Bueno Y vamos En una Privada sì, ora ti voglio accettare prima di creare questo partito e ti voglio accettare sin problema qui, qui abbiamo due, Ciano e Chris vale, a ver 20 ore di Splatoon qui abbiamo carne fresca e vamos accettare 20 ore di Splatoon a verlo come giocherà con noi se va a giocare 260 ore e a questo, Chris e lì a Sabe su su trabaco vamonos non ho visto il codice 7412 bravissimo calebb 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 è sinonimo di serie dad calebb 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 perdono perdono come si chiama io sono i ciano perfetto ciano nuovo nuovo mira che a chi giocamo smu handicap match e lì dove osano le papere le papere le papere e lì dove osano le papere le papere le papere handicap match e sto per questo se liama handicap match se no sarebbe un match normal no? sarebbe normal match wow è un torre anche credo che questa noce credo che questa noce tende pesadilla piri 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 da 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 no tranquillo ma perché che queresce mi di me in paz qui qui Victor Oh! Oh oh oh! 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 Vola, ola, 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 ótli! Vola, ola ola! Ecco qua! Oh 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 oh! è uguale è uguale Lockhead l'importante è che entri in una questa partita è finita hola 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 pinguino enfatade felice allo stesso tempo è un conflitto questo piccolo pinguino ha un conflitto in suo interio enfatato e felice vanno sto bestemmiando il vocale chi sta bestemmiando il vocale e no 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 quelle sono cose che escono quando escono hola 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 20 20 allora allora ora vanno a sereo un bel bazookarp un bel bazookarp un bel bazookarp in handicap match perché sempre ne falta uno mentre se cazzoppo ora che mi sono allenato cazzoppoloide ti segnalo per pedopornografia infantile la 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 ragazzi questa canzone dice ho fatto un po' di cacca ne ho fatta proprio tanta dice così io sento questo Victor anda Victor cazzocarp diofanta non fare il coglione mi gusta mi carita te gusta si però pobrescito questo pinguino è in serio necessita del carigno non lo sai perché che le passa perché sta infadato e perché è felice esplicanos por favore hola ostra marvi in italiano te lo dico chiaro lockhead handicap match gli igodi si allenano andiamo andiamo dove sei lock lock aspetta aspetta fammi andare avanti fammi andare avanti fammi andare avanti a noi ostra lo piglio si lo piglio però non sai perché è infadato lo piglias tu io chiedo sapere se potremmo aiutarlo questo pinguino non l'esmi nombra sei un doc io curo lo pinguino eh andiamo 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 a bloccarli sul bazooka a bloccarli sul bazooka cazzo cazzo lo piglias ostra quindi questo è un infado di verità però perché non ti dà la switch hai fatto tutto bene hai fatto i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi hai fatto il pinguino buono o solo vuole la switch perché io credo che se il pinguino è un pinguino buono la switch la va a ricevere certo però si ti ho che lavorare tu pinguino confia in noi che resteremo cada dia che ti danno la switch cada dia invocheremo tua switch switch di pinguino switch di pinguino switch di pinguino decalo 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 switch di pinguino Madre mia Marvy Stai migliorando Vale Vale Entonso apriremo Con la persona Interessata E ti legherà una switch Caleb Appuntate per favore La switch del pinguino Porfi Io odio Esta Puta barrera Che è Grazie Ragazzi Lag Sulla cosa del lag ragazzi Non Voi lo chiamate lag In parte Mostra 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 Uuuu 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 Bravissimo Ioni Cucata perfetta Eh si si Pinguino Eso es Gasta un monton Non pinta poco eh Perché mira che non pinta poco poco eh Io ne vienta tutto si E' de verdad Beh l'abbiamo persa Quattro punti Good game Guys Vitto Uuuu Uno Due Tre Uuuu Uno Due Tre No Eh Lockhead Ascolta Fino a una certa ora Grosse parolacce Bestemmie Anche se lo scrivere quel nome lì Provocano problemi Hai capito Perciò Lo facciamo Un po' più tardi Ok Fino alle 10 Fino alle 10 Minimo Dobbiamo essere friendly 10 di sera Perché Perché noi sul canale c'è Il rodiglio Il rodiglio Ah mira Non tengo rodiglio Sabe Luego vuoi a comprarmi un rodiglio Ehhh Pinguino Sì Sì chiaro Fanta è vero lo sai Io nell'ora dove ci possono essere troppi bambini non dico cioè non Tento di non parlare tanto male tanto meno scrivere perché poi arrivano dislike minchiate varie arrivano contestazioni di live e io non ho grosse voglie Pinguinito Pinguinito Io attualmente Vivo in Spagna In Barcellona Però Originario italiano Però Hace muchos años che vivo qui in Spagna Entonces Soi Me reputo ora mismo Hispano No 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 Se va muerto Mi mujer Alemana Ahora No 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 Ella è anche in live A giocare con noi Ella è alemane Oh, è spagnola Spagnola pura Olè Sì, vabbè Ioni Oh Angela Hola, hola, hola Chicos, ha venito Angela Saludate Angela, por favor O me voy a enfadar come un loco Tambien se jugais, dejais de jugar Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver, a ver No Johanna Grazie a tutti Lenguino, un po' di subscrizione Ok, 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 ok Serrara, Serrara, Serrara No, Johanna Bravissima, bravissima, bravissima Andando, andando, andando Andando, andando Tuia, tuia. No, 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 no. Angela, mira, se puoi entrare? Questo è il primo partito che... No, 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 se puoi reiniciare la LUM, credo, sai? Se puoi, se puoi, se puoi. E se non sta nel partito, dimmelo il reinizio. Mostra, 34. Anda, anda. E il pugno e tasso sul tavolo, sulla mesa, può dire, non ha serlo, perdonai. Ho dato un pugno sul tavolo, ragazzi, che era meglio che non lo davo. Voilà. No, mira, io ti dico, uh, 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 uh. Il problema del pincel è quando tu usas l'arma secundaria, entiende? Perché gasta demasiada tinta l'arma secundaria. Perché se tu usas il pincel come un conejito, Teng, teng, teng Casi nunca Te secava la tintura Ves He podito disparar Y Voila Madre mia Ciao Andre Ciao Andre Madre mia Madre mia Partitaso E un ritmo tropical E un ritmo tropical Poco poco eh Uno Due Tre Boom Torre mobile E ora E sperano fuera L'ultimo del L'ultimo del Di un'equipo Era Locked E Fanta Ragazzi Ragazzi che siete fuori Ragazzi che siete fuori Per favore Oh Locked E la seconda Alla terza Banno Te lo dico eh Sapete Regolare Guardate Guardate che arrivano Ultimi delle squadre Per favore No No come puoi Come puoi Usare Lo sniper E il doc En serio Non tengo punteria Non tengo punteria Ok È stato un piacere Lo blocco Due volte Ragazzi Salutate Locked Chicos Esto es lo que Passa Quando si hace La cosa Che non si tenga Ser Apprendei No Fanta Non è Non è mio interesse Non è proprio Mio interesse Avere No Terzo Strike Il nuovo Capisce subito Non capisce un cazzo A vita Credimi Ostra Luis Igo di Luis io non ho la più palida idea di chi sia Igo Di Luiz però benvenuto Igo Di Luiz ma è meglio gli italiani sono talmente maleducati che quasi ogni volta che vedo un italiano speriamo che non iniziano credimi ho avuto problemi solo con gli italiani fino adesso si può dire perché scrivere cose in chat che non vanno bene non vanno bene, punto non c'è tanto da dire italiani maleducati realmente tanto, fanta quelli che rimangono rimarranno perché sono educati quelli che non rimangono fuori dai coglioni cioè agili uno due boom cosa ha scritto Marvy? niente, non ha scritto niente di niente di importante che si sappia ma sai se l'ho cancellato tranquillo che però dopo troppe bestemmie e due time out io dico che può bastare si floddando scrivendo cose così tanto per scrivere parolacce l'ho chiesto gentilmente mi ha sentito fino alle 10 di sera di tenere la chat pulita di non bestemmiare tra virgolette o dire parolacce perché poi ci passa il canale capito? voi dovete capire una cosa ragazzi tutto quello che fate voi si correla direttamente anche al canale ok? perciò se voi vi comportate male e fate gli stronzi il canale si becca di dislike le denunce tra virgolette e tutte queste cose e noi questo non li vogliamo non lo vogliamo quindi dopo un paio di cose che non vanno si chiude Nintendo Switch Gaming facciamo un altro quarto prima di questo match quando questo match finisce faccio un altro quarto quindi il pass non è un problema oplà 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 chicos Ciao, ragazzi quindi il pinguino ancora sta qui con noi credo che non oh 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 aiuto aiuto no 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 grande grande Mar wow ma no che arma di mierda mi ha olvidato mi ha olvidato di cambiare di arma allora tengo ancora l'arma della torre di the tower in nada poco poco in nada può da ser mira mira vale Johanna è un aiuto impressionante no chicos abbiamo perdito o no a ver no bella bella mira Mario hola Johanna si si claro Johanna boom guarda fantasia non lavoro quasi quasi boh ancora qui vabbè 6 5 4 5 a ver 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 Diretti È l'ultima spera Zona Oh Marvi Marvi devi muovere Quale sniper vuoi tu? Vogliamo noi credimi Dobbiamo giocare Giocare a rata Gabri Hola Gabri Perdona non ti ho visto Perdona Giocare Giocare Marvi vai 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 Grande E Gabriel Entonse Se nada Se tu nada Non eres un inclin Perché E io muero nell'acqua Entonse è bannato Dallosigodi Chicos È un bufu Tieniamo che bannarlo Dallosigodi Non puoi te la dar Ciao Sono Luis Bufu Angela Por favor Non ti esche salutarlo Lo bufu Tranquilla Non ti malgasta Sto tempo Por favor Dai Una cica come tu Che saluta Un bufu Fanta Fanta No 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 Mueren E nel l'acqua Mueren Hoi sto facendo la live E Coco Está alli Lejo 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 E ni Me habla Eh Coco Coquino Ciao Amore Amore di papà Mi viene a tener un po' di compagnia Ora voglio cercare un pochino Cocco Chicos Perché Pobrecite Stai solo solito Guapo Ah Nato in tinta Barbare Laser tag Chicos Era zona splat Io stavo pintando Chicos Porresto non veniva nadie E zona splat Nooo Ioni Te odio Qua la vis E Water No Chicos Cuidado con vis Che Non Non bromea Il chico Così Oh no ciao cocchino cosa stavi facendo dormendo tu lì perché duermes mio amore perché duerme e abbiamo perdito e sicuro io sono l'ultimo perché io pintavo e pintato per un minuto di 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 luis e ashley solo s'ultimo perfetto uno dos tres allora ascolta fanta ti dico solo o non levi della lista o non lo so a parte che qui perché sei il codice perciò va bene goditela alla spettatore tutta la vita ragazzo tutta la vita fuori comunque fanta accetta io non ho visto in molti 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 spettatori non lo ho visitato non ho dato volta per la spagna però siamo disconnettati credo due persone a vero hanno una sola vale tre italiani contro il mondo me gustaria a stavola ho sempre trovato e vivendo in barcelona ti dico non lo sei per egoismo abbiamo si o dici tengo tutto tengo il mar tengo la montagna mi cerca cioè non mi è muovito mucho però sì mi gustaría conoscerla come conoscerla l'italia ehm vissan non lo sei non me l'acuerdo eh lo sei perché caleb è un buffo la colpa è di caleb crema che io non ti esplatta con una granada si se llama granada a caso sempre 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 io te andò a dar un segundi e te mata allora parlare sempre bene di Caleb chicos, ricordate parlare sempre bene di Caleb Caleb è bravo Caleb che è quasi tan male madre mia ho il cuoco fatal sto rimuendo non l'ho neanche iniziata cocchino tengo hambre io cuoco come una cabra oh no, no, Ioni Ioni non si parai tutti gli equipi ci tosse si non puoi capolino ganeremo mongol gol quindi adesso nel cinema hello hello Triumph hello uno dos tres boom Triumph how are you welcome to our stream live stream a ver e ci scrivo uno dos tres victory eh yes sottio vale ho fatto marco il cubo oh tra vè twins twins you play with the nintendo switch hello 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 9966 no marvi come possiamo far salmon run se siamo così tante persone raga dai usate il cervellino hola hola una cuenta la settimana ha impiegato muy muy bien esto si uno más uno más chicos y la tuya che tal tu día clau vale handicap match handicap ok vale vale anche la vale 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 e mira angela se se veste che vamos cambiando la la room ti vuoi inviare il il codico in discord vale sei chi era se tutti i pennelli sono belli no 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 ah vero non lo tienes angela vale 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 tu verás se lo descargas si 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 clau en serio ha passato el el virus intestinal de estos día si angela mira también si tiene l'ordinatore puede ponerlo nell'ordinatore si pero pero yo te digo se no sabe como se usa es un poquito qual è il problema fanta fanta ostra angela por decirte el discord es muy guapo porque como tu haces el server y ahí puede hacer tu cosa y estructura la chat como se fuese un sito internet con una pestaña lateral donde tiene toda la sección en nuestro en nuestro caso te hablo de nuestro servidor mismo como como lo he hecho y con mucha cosa mucha cosa nosotros hemos puesto también todo lo contenido de wallpaper por ejemplo que la nintendo ha puesto hasta ahora en my nintendo y ya teníamos lo que han puesto por l'anniversario del zelda hace dos semanas ya que lo teníamos ostras ti piace discord fanta marviu perfetto Kale è ben bufo Kale è ben bufo È super bufo Schibri va papù Buoh, demasiado Buoh, non me lo creo Vale, Gaby Vale, Gabriele Buon gioco Scusami Angela Se ti descarga Discord Acuérdate che Tiene che Venire In un video O nel diretto Se ancora siamo E darle al link Donde tiene scritto Discord Allora entra direttamente Nuestro servizio Sin problema Vale Minchia handicap match Chicos One Two Three Falta Falta e manca Handicap match Boom, 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 boom Ba da Ba da ba ba da Ba da ba da Ba da ba da Te li rubo tutti Te li rubo tutti Te li rubo tutti No, 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 no È Johanna La Pecchina Ioni Hoop, 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 hoop Hoop Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Occhi, eccolo Occhi Occhi, no, no, no Panna 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 Fanta 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 Bella Andiamo 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 no sulla linea Natalia dalla base di nuovo la bolla è sta bacca 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 poca potenza di tiro attenzione sono in base da noi, fanta, chicos, mette nel maschio eh, no no no, che nabbo con sta arma, che nabbo con sta arma, non voglio hacer nada con esta arma tio, ma nada de nada de nada, boom, e todo mi splatana si, a ver, ma por que no se ha muerto, no me lo creo, ciao guys, ciao bello, perchè non l'ho preso? questa bacca, ciao ice, scusa ma sono da solo e, a parte giocare con questa arma che non ho mai usato, sono anche solo in chat, per cui, nooo, ma io non sono uno youtuber, non sono uno youtuber, per favore, io sono un gamer, ho appena cancellato persone che rompevano le palle in chat, lo youtuber questo non lo farebbe mai, 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 op, 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 vale, certo lion, manda, manda pure, qui siamo, anche per quello, su, 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 doc mi si è spenta la switch, manda, manda pure l'amicizia, giovane leone, uno, due, tre, boom, scrote infiammato, perchè, allora, tu non puoi entrare, cioè, ci va la calma nelle cose, se no diventiamo tutti alterati qua, zio, no? e non ti ho bloccato, perchè sei stato educato e hai iniziato tutto da capo, no? però è stata la sclerata più memorabile che abbia mai avuto, e ripeto, se guardi questa live ti rende conto che c'è una persona che è stata, sono padre, no zio? padre, che palle, minchia, come padre, anch'io sono padre di, di, di 300 persone qui, lo sai? mi fanno esaurire tutti i giorni, maledetto a me che, maledetto a me che ho fatto sta merda di canale, Allora Mettiamo questo Minchia non ho più un attimo libero Non uso Sniper E io non pago affitto Se vuoi sapere la mia Se tu non usi Sniper io non pago affitto Il codice amico guarda Ce l'hai nel Nel Minchia sto diventando Non so più le parole in italiano Nella descrizione Nel Bravissimo 3 contro 3 Questo E' il juego No 4 contro 4 Sì sì manda manda Tu manda gli accetto Tu manda gli accetto bello 30 euro Sarà molto veloce questa partita Canino Morto Natalia Natalia Durazzo Morto 62 62 Piiri 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 pi Oh cico cico Sostra puta Vale Oltre me minchia 9966 una cosa così 9966 no boom accetto a ver luca 180 ore splatoon un po' pochine luca luca puoi far di meglio eh Mako Mako credo che oggi boh o scuola o qualcosa starà pettinando le galline non so cosa sta facendo Mako mandare un massaggio su discord e digli Mako cosa fai? eh Lion leoncino mio ci sei? ascolta guarda noi usiamo anche discord lì diciamo quando partono le dirette cosa facciamo se c'è qualcosa di importante di bello quindi se vuoi aggiungerti a discord nella descrizione c'è anche il nostro codice del server server molto operativo eh oh 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 la non me lo voglio credere cos'è successo cos'è successo? cos'è successo? se hai cambiato ora chicos ma hai alguna spagnola un? o se hanno ido todos? me dejarono solo con los italiani che passa oh 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 sono un grosso scroto infiammato anch'io un po' tutti siamo scroto infiammati ricordatelo prima è venuto uno hai iniziato a bestemmiare no? hai iniziato a dire minchia siete cioè ha scritto parole brutte minchia subito subito mi ha andato a fanculo ho detto ma sarà già sarà già che io poi mi devo beccare denunciare il canale per queste teste di meuda di meuda grazie benvenuto in famiglia chicos Ice Lion 101 se ho soscritto si Ioni è l'unico italiano cioè è l'unico spagnolo tu e Ioana los dos i nadie más perfetto eh io marviu non se stiamo piccando con lo francos marviu vuol dire aspetta te lo dico io tranquillo ha detto che vi state stuzzicando con i cecchini cioè che vi state ammazzando l'uno o l'altro via con i cecchini hello Laura hello boom buon gol gol non lo voglio buon gol gol vaffanculo metto torre hello Laura how are you Jess she's not here right now but she come in half hour I think dimmi Lion si si ti leggo ti leggo Ioni va va lo che faltavas no era tu vale vale allora allora un secondo un secondo ok serrar opla doc ma tu sei il terzo canale youtube che parla sportone italiano non lo so non lo so fanta non io so che io so che poi alla fine guarda che sono 70 giorni tipo che abbiamo il canale non è che è tanto oh la oh la wow boom Vitto Sì, sì Ti ascolto, ti sento, ti ascolto Ti vedo, ti sento Ti vedo, ti sento, no Però ti leggo Scrivimi pure Guarda, guarda, guarda Habla con il perro Habla con il perro Donde vuoi andare? Ma perché? Perché non vuoi morire? Eh, Barbie? Wow Dai, dai Ciao Vale, mettici un qualcosa di più di un minuto, per favore Laura, Laura You are here, Laura Ci vediamo un minuto Vale Uno Due Tre, boom Uh, Laura Nine, nine, six, six No, 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 no No, 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 no Do-do-do-do-do-do-do-do-do Um Um Bo-bo-do-bo-bo-bo-boom Oh, Marvi Hi Hi Donnalisa, welcome How are you? Donnalisa, la vedo What's up? Let's see Let's see Hola, 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 hola. Que pasa ahí? Ni l'hai visto, chicos che abbiamo insieme nella torre uh 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 termo immobile al primo salmone run a qual? a qual? no non ho intendito qual? al primo salmone run and 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 ah ah nooo buo cico accetto un secondo eh? vale cosa dice che tenevamo dos amici ma credo che ah vale 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 questo è alguien che se devierte leone a te ti chiamo leone se vuoi dopo le dieci e mezza ti chiamo scroto infiammato però solo dopo le dieci e mezza Marvy 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 lo so che sei tu Marvy lo so che sei tu basta basta stop ciao cocco yuhuuu questo è Tibon questo è Tibon che fa sti giochi già lo so Tibon sei uno stronzo oh Johanna tu e io sempre qui stiamo io stai io stai ah Victorin me pregunta se juguete al primo Splatoon chiaro che si il primo Splatoon ho tenuto la suerte di giocarmelo dal day one e il secondo no c'è cosa il secondo è tenuto un problema economico ma siamo amici la family siamo amici siamo siamo la famiglia siamo la famiglia Corleone oh 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 ostra 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 Victor Victor ti voy a borrar dal clan Victor yuhuuu tengo amigos gracias eeeh vale ti chiameremo Corleone Cush la tua bitch mi chiama One boh a ver lo tengo qua lo tengo chi ne è Kate Holy Kate Holy Kate wow I love this number yeah welcome ma perchè Gigi Gigi Cocchino vuoi fare la live con papà? vuoi venire qui a fare la live con me? oh ciao 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 vieni 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 con papà vieni dai vieni amore facciamo la live vi farò la live con papà Laura welcome Cocco ma mi hai accettato a me si ti ho accettato Lion benvenuto benvenuto adesso è il pappagallo c'è il pappagallino amore vero? pappagallino enorme non è un pappagallino quindi vamos uno due boom no 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 che sta succedendo qua? basta io voglio capire chi è chi è il testa di caccio sono troppi amici per capire chi mi schiava l'usca classica guarda ti dico che attualmente ho quasi la lista piena e ricordarmi come si chiama un amico che è venuto una volta e forse non hai neanche giocato ok secondo me ti chiami the ice lion 81 se sbaglio dimmelo che ti farò un bonifico guarda per entrare nel ligodi dovresti fare solo una piccolissima cosa adesso Caleb ti invierà il codice guarda che se ti becco chi sei ti spacco le gambe dio frustrato perché veramente cocco di qualcosa dai scendi giù e parla a questa gente ti sta prendendo per il culo dai scendi giù quindi ok dottor arex è arrivato in discord benvenuto dottor arex ai permessi nel nel server voilà oh oh no perché ecco ora ti leggerà un bonifico Caleb tiene che asserlo che tu sabes non lo so ma è è grazioso boh ioni sì arriverà 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 adesso che c'è il movimento 5 stelle in Italia tranquillo che le cose cambieranno arriveranno tutti i bonifici in tempo reale guarda che guarda che Caleb ha fatto arrivare secondi eh por culpa di Caleb a ieri segundos perché stava él ostra 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 no Victor sì Jess dovrebbe arrivare tra mezz'ora credo spero infatti io ho una fame che non vedo più cioè ho troppa fame lo sai e qua siamo bloccati eh lo siamo serrato ok eh chicos no bene 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 ma Jess è viva quindi ora posso entrare in team ha sentito parlare del team ma tu non ci puoi stare nel team la gangia lalini siamo solo sei cico sì cinque dai dai che buffoneria è esta te l'ho già detto ieri André se hai voglia mettilo tranquillo tanto noi giochiamo sempre trovi sempre gente attiva oh entering my room please guys chicos intentate entrare in my in my room la la che vendrà perché sono solo 4 persone 5 persone non possiamo jugar we cannot play 5 people only in one match so we try to play here just a little a little eh ma qui in 5 ci stiamo Fanta in 5 qui ci fa entrare fidati in due mani ci fa entrare a tutti Salmon run c'è sempre gente che deve aspettare fuori dalle dalle no andré 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 ricordati di lasciare il tuo codice amico nella sezione codico amico per esempio così almeno chi vuole giocare poi con te c'è il codice lì e non devi stare a cercare niente se guardi nelle sezioni di sinistra trovi friend code nintendo e lì puoi mettere il tuo codice boom no 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 ostra e lunar boom 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 e chi è questa sabbia neanche la conosco neanche la conosco io sta sabbia boh incredibile e la line si blocca boh kenzo e va jesse sta tornando a casa meno male squacquara 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 guarda io ti dico lega chi entra entra chi non entra non entra dos dos o cio cio dos dos o cio cio no no codice dos dos o cio cio due due otto otto nessuno entra tante belle storie perché mi chiamo d'occhio family dimmi dimmi leone no 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 laura non può giocare laura non può giocare ragazzi abbiamo una persona una persona che non può giocare perché non ha il livello penso penso che prendono uno stop di un'oretta sapete ragazzi vado vado a mangiare cioè cucino il tempo che arriva Jessica e iniziamo di nuovo quindi ragazzi we come back in one hour a salmon si possiamo fare una salmon run bravissimo bravissimo oh leone dimmi 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 per favore dimmi dimmi ciao ciao oh devo andare a chiudere la finestra perché fa freddo che fate 2288 o 222 non lo so zio vediamo se riusciamo a partire ah 2222 grazie lion Kate Kate we start in a in a in a minute we wait we wait for Fanta and and Laura we are waiting Laura 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 ah tu sei italiana perfetto scusami Kate Kate get me quindi dai Laura ci sei Laura Laura prova test test prova oh Laura oh Laura prova test 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 prova oh Laura quindi insomma ciao dai Laura ce la puoi fare Lauretta you can do it Laura mamma mia un'ora un'ora dopo one hour later one hour later kitchen online e quindi madre il secchio pu 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 pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip mamma mia che fame ragazzi Laura boh io sono arrivato alla fine delle forze se non mangio muoio cioè se non cucino e poi mangio muoio ovviamente oh yeah chi è lo sniper? uuuuva più uova più uova voglio più uova boom dove si svolge l'azione? scusatemi ragazzi ero sopra io andanda l'avrà già non ha resistito guarda l'avrà dovuto eccolo no 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 wow uuuuuh cocchino hai visto cosa è successo? manage toast toast sorry sorry guys i don't have watched the screen so how are you toast? una schizzo fra non ho capito aspetta 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 eh Allora All Alive finisce Epica Finita male No non Non ti capisco Fanta Non sono stato dietro al chat Perdona stavo Pienamente giocando perché Credo anche di aver sentito L'ascensore arrivare Oh Boom Oh Cochino Le scarregine fai Wow ragazzi Che numero Opa Qui 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 No Posh 5-5-5-5 Chicos Io ora 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 Mismo Paro Il diretto Io tengo che comer Quintose No Svemo Oh ragazzi ci vediamo più tardi Mangio Cioè Aspetto che arrivi Mangiamo e ce l'andiamo Ci vediamo dopo Ragazzi ci siete C'è bene Toast I go to I go to eat I need to eat I'm waiting Jess Jess come in In home In five minutes I think So We eat And later We play again Ok Quindi Guys See you later Bye bye Bye